Ma guarda, non c'è tanto mai una distanza tra noi e la signora Meloni. Io ho un rapporto veramente di amicizia con lei, mio figlio ha un rapporto di amicizia, il suo uomo lavora a mediaset, per dire, no, sono tanti i punti di contatto. Ho insistito che tutte le cariche che vengono date in maggioranza siano date secondo il numero degli elettori. Noi abbiamo 180.000, 170.000 elettori in meno, soltanto i Fratelli d'Italia. Scusa, della Lega. La cosa che c'è è questa, invece hanno tirato fuori una formula per cui con le percentuali, eccetera, eccetera. No, perché noi abbiamo 20, l'ho detto stamattina, deputati in meno rispetto alla Lega e 10 senatori in meno, che non corrispondono alla differenza che c'è sugli elettori.